Bentrovati a tutti gli amici di Meteo Giuliacci da Andrea Raggini. L'aria fredda ha raggiunto nelle ultime ore la nostra penisola determinando un deciso calo delle temperature con nevicate fino a quote collinari dall'Emilia Romagna e fino alle regioni del centro-sud. Infatti nella giornata di giovedì nevicate hanno raggiunto anche i 200-300 metri perfino tra Basilicata e Calabria. Proprio in Calabria la città di Cosenza ha visto il ritorno della neve. Davvero inusuale che la neve possa cadere a quote così basse a marzo. Il vasto nucleo di aria fredda di origine artica infatti dopo aver colpito il settore adriatico è giunto fino alla Calabria determinando dapprima piogge intense poi il costante ma repentino calo della quota neve che ha raggiunto persino Cosenza dove alle ore 16 si registravano solamente 1.5 gradi con nevicate nei quartieri meridionali della città calabrese. Almeno fino alla giornata di domenica il maltempo continuerà a interessare parte della Calabria con precipitazioni e nevicate però che tenderanno ad alzarsi di quota ma le temperature risulteranno molto basse per la stagione quindi per qualche giorno è tornato l'inverno in Calabria. Per questo appuntamento è tutto buon proseguimento da Andrea Raggini.